buongiorno oggi parliamo con marinella sciacca lei è una insegnante di scuola primaria insegna presso la scuola primaria dell'istituto comprensivo riccardo massa di milano è in questa scuola da vent'anni e da vent'anni lavora in una classe con metodo montessori allora senta maestra ma entriamo subito in argomento ma quali sono le caratteristiche fondamentali di una classe metodo montessori in una scuola primaria cioè quali sono gli elementi che la caratterizzano il metodo montessori vede al centro del suo processo di apprendimento il bambino e tutto ruota intorno allo sviluppo psichico del bambino quello che è fondamentale è sicuramente la costruzione di un ambiente un ambiente che non è solo costruito all'interno di un'aula ma per ambiente si intende tutto quello che anche limitrofo gli spazi che sono attorno all'aula per cui per noi diventa ambiente che la montessori definisce un ambiente educatore diventano ambienti corridoi diventa l'ambiente la zona precedente la classe tutto è costituito da angoli tematici dove viene riposto il materiale dove vengono messe dentro delle proposte che il bambino può utilizzare naturalmente all'interno di questo ambiente che è organizzato scientificamente costruito dall'insegnante che ha un ruolo di regista per cui l'insegnante ha questo ruolo un po' umile deve essere meno insegnante deve più affiancare il bambino senta maestra la maria montessori diceva una cosa molto curiosa in proposito e cioè diceva ma io sono felice quando vedo i miei bambini che lavorano come se io non ci fossi ecco che cosa voleva dire con questo cioè a lei a lei capita quando è in classe di dire oh che bello stamattina stanno lavorando come se io non ci fossi questa è una sensazione veramente interiore altissima che tu riesci ad avere nel tempo perché anche tu ti devi educare a montessori diceva che la maestra deve farsi umile deve quasi nascondere come un regista che ha pronta la scena ma poi fa sì che il bambino interagisca con quell'ambiente per cui se io ho presentato dei materiali strutturati se ho lavorato con i bambini in un certo modo all'interno delle nostre classi c'è una pratica quotidiana che il lavoro libero loro sanno esattamente dove trovare i materiali come poter lavorare quindi questo ti permette di far di farli lavorare senza che tu possa intervenire per disturbare quel loro lavoro quella quell'attenzione quell'interesse che loro hanno tra le proposte presenti in classe quindi a me è capitato di dirlo oggi fate finta o no fate finta è come se io non ci fossi all'interno della classe perché loro si organizzano e quindi riescono a gestire tutto il lavoro senza che io possa in qualche modo intervenire o fare la mia lezione senta nel metodo montessori rivestono molta importanza i materiali ecco come lo affrontate quindi questo tema i materiali sono dei materiali di sviluppo non sono delle diciamo così dei materiali che vengono utilizzati a sussidio di una lezione o come corollario di una spiegazione in realtà sono dei veri e propri materiali di sviluppo perché attraverso il materiale il bambino acquisisce proprio delle abilità delle competenze il materiale viene presentato ai bambini viene presentato e qui il lavoro importante della maestra un lavoro di grande osservatrice la maestra deve osservare capire qual è il momento giusto intercettare i periodi sensitivi dei bambini c'è dove i bambini sono più sensibili rispetto ad alcune diciamo così stimoli che loro hanno e individualmente nella scuola dell'infanzia piccolo gruppo nella scuola primaria vengono presentati dei materiali ma la presentazione è come dire quasi silenziosa e il materiale che parla noi mostriamo ai bambini come il materiale deve essere usato la montessori diceva sempre una maestra deve utilizzare più il silenzio della parola cioè deve mostrare far vedere piuttosto che spiegare perché in realtà mostrando facendo vedere e provando quei materiali il bambino riesce ad esercitarsi ea interiorizzare concretamente dei concetti senta nel metodo montessori almeno questa è la sensazione che magari chi non è esperto e chi non conosce bene il metodo a ci sia troppa attenzione alla individualità del bambino cioè sembra un metodo molto individualizzato in cui come dire la socialità del bambino viene un po messa da parte viene trascurata non viene valorizzata adeguatamente ora lei sa meglio di me che i bambini invece imparano molto anche nel gruppo dei pari ecco questa contraddizione come si risolve io naturalmente non la vivo all'interno della classe non è assolutamente così per quale motivo innanzitutto il fatto che il lavoro sia individuale significa che risponde proprio ai bisogni di quel bambino ai tempi di un bambino rispetto a delle lezioni frontali dove il tempo e il ritmo viene dato dall'insegnante qui invece il bambino che in base ai suoi tempi in base ai suoi interessi si esercita e quindi come dire si approccia al materiale per cui lui ha una soddisfazione interna che è abbastanza diciamo così efficace in realtà all'interno delle nostre scuole non c'è questo isolamento ci sono tanti momenti di socialità e ci sono anche tanti materiali che possono essere svolti cooperando tra di loro la montessori privilegi sicuramente uno spirito collaborativo e di cooperazione ci sono dei materiali dove per poter essere realizzati abbiamo necessità di avere tre o quattro bambini quando il bambino cresce in età ci sono dei lavori di gruppo e quindi sono assolutamente previsti pianificano progettano realizzano e presentano le loro diciamo così opere dove tu hai dato uno stimolo ma loro praticamente lo amplificano lo ampliano secondo i propri interessi certo senta le faccio questa domanda lei tiene un suo diario di bordo cioè lei prima parlava di osservare i bambini ecco queste osservazioni cosa fa le annota su un suo diario su un suo quaderno che cosa succede ognuno di noi ha un modo no per poter prendere diciamo così degli appunti sicuramente noi osserviamo molto i bambini proprio l'attività principale questa osservazione silenziosa rispetto proprio ai loro interessi all'uso del materiale all'autonomia che loro hanno rispetto al materiale quindi noi segniamo quali possono essere i loro punti di forza i punti di miglioramento in modo da intercettare poi il bisogno di quel bambino a questo proposito mi viene da fare questa osservazione il metodo Montessori a me sembra poi magari mi sbaglio lei mi correggerà sembra particolarmente adatto anche a far lavorare bambini di età diverse fra di loro ecco però purtroppo nella scuola primaria italiana questo è molto difficile perché noi siamo come dire organizzati con le classi che sostanzialmente richiamano l'età dei bambini quindi in classe prima ci sono i bambini dai 6 ai 7 anni e così via ecco come lo risolvete come lo affrontate questo problema allora noi abbiamo all'interno della nostra scuola le classi per età e questo è vero sicuramente svolgiamo come dicevo prima dei lavori fuori dall'aula per cui noi fuori dall'aula abbiamo allestito delle zone tematiche all'interno di spazi comuni lavorano bambini anche di età diverse che possono utilizzare lo stesso materiale per cui loro c'è una diciamo così concomitanza se io un materiale fuori vado fuori lavoro perché ho libertà appunto di movimento ci sono anche bambini di altre classi in alcuni casi il bambino più grande che rispetto al bambino più piccolo fa vedere delle cose o delle procedure o il bambino più piccolo che osserva il lavoro di un bambino più grande quindi comunque noi bambini tra virgolette sono mischiati e all'interno di spazi che sono comuni dove può esserci anche la comunanza del materiale perché se ho un bambino di un'età che è avanti su determinati concetti e che comunque vuole andare avanti posso presentarli e non c'è un programma fisso rigido può andare avanti altri che magari invece rimangono più su altri materiali quindi il lavoro a classi aperte anche differenti di età nella nostra scuola sicuramente promosso maestra c'è anche chi sostiene che il metodo montessori sì certo aiuta i bambini a svilupparsi a crescere in modo autonomo eccetera però alla fine è questo metodo forse lascia i bambini persino troppo liberi cioè c'è anche addirittura chi parla di un metodo un po anarchico cioè che promuove perlomeno l'anarchia dei bambini è così no 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 anche su questo non mi trovo d'accordo anche perché ripeto nella mia pratica quotidiana non è così la montessori parla di libertà di scelta all'interno di un ambiente che è organizzato e preparato che deve promuovere l'interesse per raggiungere l'autonomia perché l'autonomia del bambino è il fine ultimo ma autonomia che ha un'etimologia dal greco vuol dire proprio un controllo di sé quindi è proprio l'opposto rispetto all'anarchia io devo avere devo essere autonomo devo sapermi muovere in un determinato ambiente e quindi è abbastanza rigoroso no perché è vero che a me viene data tanta libertà però la mia libertà non deve disturbare il lavoro degli altri no è una caratteristica fondamentale del metodo che è una cosa diciamo così su cui mi sono interrogata da giovane diciamo così quando iniziato che c'è un solo materiale presente in classe per tutte le conoscenze per tutto quello allora uno dice ma non potresti la tavola delle moltiplicazioni piuttosto che altro averne di più così più bambini si esercitano in realtà non è così anche dietro questa scelta c'è un punto fondamentale un materiale deve essere unico posizionato sempre in un posto perché un bambino può sceglierlo liberamente ma se io desidero ardentemente quel materiale devo aspettare perché deve esercitare proprio quella pazienza quel rispetto del lavoro degli altri ma un bambino può usarlo tutto il tempo che vuole e io esercito l'arte della pazienza ma non solo quella pazienza che ha anche umiltà e rispetto dell'altro ma questa unicità mi fa anche capire che anche se non ho quel materiale io ho tante altre proposte quindi anche rispetto ai tempi di adesso l'attualità del metodo io non devo avere tutto e subito io devo avere quando diciamo così è il tempo quando gli altri lo hanno terminato quindi c'è un rispetto veramente importante regola la vita di una classe quindi non c'è anarchia prima in attesa di iniziare a registrare lei ha detto una cosa molto curiosa che mi ha molto colpito lei ha detto io sono arrivata in questa scuola vent'anni fa più o meno e ci sono rimasta perché quando sono entrata mi sono sentita a casa mia ecco questo fatto di sentirsi a casa propria vale anche per i bambini cioè i bambini quando entrano in una classe montessori a lei sembra che si sentano a casa loro allora naturalmente questo è un augurio un auspicio che noi abbiamo rispetto al fatto che i bambini provino quella sensazione di benessere io se faccio riferimento alla mia esperienza personale credo di sì il fatto che tu li accompagni in questo processo di crescita perché il montessori non è una tecnica didattica diversa per cui loro debbano in qualche modo essere istruiti e debbano essere accompagnati in un percorso educativo c'è tutto quello che la montessori pensa non è solo rispetto al materiale e all'acquisizione di conoscenze è proprio un'educazione dei sensi sicuramente degli delle conoscenze ma è anche una crescita dell'individuo nella sua globalità lei chiama le sue materie psicogrammatica psicogiometria psicoaritmetica proprio perché dietro c'è tutto un concetto di tipo di accompagnamento psichico quindi noi dobbiamo attivare e i nostri corsi ce lo spiegano ci spiegano tantissimo come noi che cosa dobbiamo osservare dobbiamo tener conto dei bisogni del bambino cosa c'è dietro ogni materiale quindi nella tecnica e quindi noi ci auguriamo che il bambino si senta come dire accompagnato in questo percorso quindi accolto e riconosciuto in quelli che sono esigenze bisogni e che possa esprimerli nella sua propria individualità bene guardi noi la ringraziamo ci sembra che abbia ci abbia dato una panoramica ampia precisa di come davvero funziona una una classe montessori in una scuola primaria grazie davvero e auguri di buon lavoro grazie a lei arrivederci grazie a tutti